Riti credo li conosca e quindi probabilmente dopo il suo intervento ci saranno delle domande. Io le scelgo la parola, grazie. Grazie, allora grazie per questo invito, io parlo da Budapest, sono un professore di storia medievale e mi occupo specialmente con la religione nel Medioevo e anche con San Francesco, allora sono molto contento di poter parlare a questo pubblico, non vi vedo, ma porto i miei saluti da Budapest. Allora cominciamo, posso avere il prossimo slide? Sì, vorrei iniziare la mia lezione con la presentazione dei due momenti fondamentali in cui, secondo le sue leggende, San Francesco si trovò di fronte all'immagine di Cristo crocifisso e questo portò alla sua stigmatizzazione, la preghiera nella chiesa dirocata di San Damiano e la visione del Serafino sul monte Averna. Per quanto riguarda la prima, un episodio che non era ancora presente nella sua prima leggenda, La vita del Beato Francesco di Tommaso d'Acelano, la scena è descritta della leggenda dei tre compagni e successivamente dal memoriale del Desiderio dell'Anima, La vita seconda di Tommaso d'Acelano. La prossima slide, per favore. Nella leggenda dei tre compagni si legge «Mentre passava vicino alla chiesa di San Damiano, gli fu detto in spirito di entrarvi a pregare». Andatoci prese a fare orazione fervidamente davanti a una immagine del crocifisso che gli parlò con pietà e benevolenza «Francesco, non vedi che la mia casa sta crollando, va dunque e restaurarla per me». Tremante e stupefatto rispose «Lo farò volentieri, Signore». Per quelle parole fu colmato di tanta gioia e inondato da tanta luce che gli sentì nell'anima che era stato veramente il Cristo crocifisso a parlare con lui. Da quel momento il suo cuore fu ferito e si struggeva al ricordo della passione del Signore, finché visse portò sempre nel suo cuore le stimmate del Signore Gesù, come si manifestò, chiaramente più tardi quelle stimmate si riprodussero nel suo corpo mirabilmente impresse e fatte conoscere in tutta evidenza». Questi testi sono importanti per vedere poi i soggetti delle immagini. Allora, Tommaso D'Acelano scrive nel suo memoriale «Condotto dallo spirito, entra a pregare, si prostra, supplice e devoto davanti al crocifisso, e toccato in modo straordinario dalla grazia divina, si ritrova totalmente cambiato. Mentre Egli è così profondamente commosso, all'improvviso, cosa da sempre inaudita, l'immagine di Cristo crocifisso da dipinto gli parla muovendo le labbra. Francesco gli dice, chiamandolo per nome, «Va ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina». Francesco subito si dispone a obbedire, si prese cura di quella immagine e si accinse con ogni diligenza a eseguirne il comando». Allora, un'immagine che miracolosamente parla e muove le labbra, un'immagine di culto che media un messaggio divino, questo è un archetipo potente nella storia antropologica delle immagini. David Friberg, nel suo libro «Il potere delle immagini, il mondo delle figure, reazioni ed emozioni del pubblico», prende questo episodio della vita di San Francesco come uno dei punti di partenza della sua analisi, che si concentra poi su come un contemporaneo di San Francesco, il cistercense tedesco Cesario di Heisterbach, descriveva simili immagini o statue miracolose di Cristo della Vergine Maria, parlando, per esempio, con San Bernardo di Clervo. passiamo ora al secondo esempio, argomento centrale di questa lezione, la stigmatizzazione del Monte Laverna. Ne presento qui la rappresentazione più emblematica realizzata da Giotto ad Assisi sulla base della leggenda maior di San Bonaventura. Il testo di Bonaventura è molto importante. Un mattino, all'appressarsi della festa dell'esaltazione della Santa Croce, mentre pregava sul fianco del monte, vide un serafino, con sei ali tanto infocate quanto luminose, discendere dalla sublimità dei cieli. Esso, con rapidissimo volo, giunse vicino, liberato nell'aria all'uomo di Dio, e allora apparve tra le sue ali l'effigie di un uomo crocifisso, che aveva mani e piedi stesi in forma di croce e confitti alla croce. Due ali si alzavano sopra il suo capo, due si stendevano a volare e i due velavano tutto il corpo. A quella vista si stupì fortemente, mentre gioia mista e tristezza gli inondava il cuore. Provava Letizia per l'attengiamento gentile con il quale si vedeva guardato da Cristo sotto la figura del serafino, ma il vederlo confitto in croce gli trapassava l'anima con la spada dolorosa della compassione. Fissava pieno di stupore quella visione così misteriosa, conscio che l'infermità della passione non poteva assolutamente coesistere con la natura spirituale immortale del serafino. Ma da qui comprese finalmente per divina rivelazione lo scopo per cui la divina provvidenza aveva mostrato al suo sguardo quella visione, cioè quello di fargli conoscere anticipatamente che lui, l'amito di Cristo, stava per essere trasformato tutto nel ritratto visibile di Cristo crocifisso. è una parte del discorso molto importante non mediante il martirio della carne ma mediante l'incendio dello spirito. Scomparendo, la visione gli lasciò nel cuore un ardore mirabile e le figie di segni altrettanto meravigliosi lasciò impressa nella sua carne. Subito, infatti, nelle sue mani e nei suoi piedi incominciarono ad apparire segni di chiodi come quelli che poco prima aveva osservato nell'immagine dell'uomo crocifisso. Le mani e i piedi proprio al centro si vedevano confitti con chiodi apparivano nella parte interna delle mani e nella parte superiore dei piedi mentre le punte sporgevano dalla parte opposta. Le capocchie nelle mani e nei piedi erano rotonde e nere le punte invece erano allungate piegate all'indietro e come ribattute e uscivano dalla carne stessa sporgendo sul testo della carne. Il fianco destro era come trapassato da una lancia e coperto da una cicatrice rossa che spesso emanava sacro sangue imbevendo la tonaca e le mutande. E poi Bonaventura un po' più tardi scrive Così il verace amore di Cristo aveva trasformato l'amante nell'immagine stessa dell'amato. Francesco discese dal monte e portava con sé l'effigie del crocifisso raffigurata non su tavole di pietra o di legno dalla mano di un artefice ma disegnata nella sua carne dal dito del Dio vivente. Il prossimo. Hans Belting l'eccellente storico dell'arte tedesco recentemente scomparso forse il miglior esperto di storia delle immagini come oggetti di culto ha dedicato un'analisi ispirata a quella scena e al relativo testo di San Bonaventura. Soprattutto le ultime righe hanno attirato la sua attenzione. Lo cito Il corpo del santo si era trasformato nell'immagine nell'immagine del figlio di Dio e aveva quindi superato la barriera che separava tutte le altre immagini di Cristo dall'originale. Il figlio di Dio che a sua volta era nato come immagine corporea del Dio senza corpo si era reincarnato in un corpo contemporaneo anche se con una somiglianza molto specifica. Ritornerò sull'analisi di questo capolavoro capolavoro di Giotto più avanti nella mia conferenza e anche sulle perspicaci osservazioni di Hans Belting su come il corpo di San Francesco diventi un supporto pittorico di un'immagine soprannaturale e su come questa possa essere rappresentata nell'arte. Il prossimo La stigmatizzazione di San Francesco è senza dubbio il miracolo di un santo più rappresentato nell'arte medievale. Prima di presentare una panorama di questo ricco corpus vorrei ricordare brevemente le più significative discussioni recenti su questo tema. L'elenco dovrebbe iniziare con la monografia del 1993 di Chiara Frugoni Francesco e l'invenzione delle stimmate una storia per parole e immagini fino a Buonaventura e Giotto. Questo libro ha risuscitato l'annoso dibattito sulla questione francescana proprio accostando alla discussa evoluzione della tradizione ageografica lo sviluppo altrettanto polisemico delle immagini. Una voce a parte come dice Chiara Frugoni. L'argomento principale e il più controverso del libro era la contrapposizione tra l'iniziale interpretazione di frate Elia delle ferite sul corpo del defunto Francesco come stimmate di Cristo e la visione che si poteva decifrare dai scritti di frate Leone. Il prossimo di frate Leone il più stretto compagno di Francesco presente con lui nel suo remo sul monte Laverna che sottolineò l'importanza spirituale della visio e allocuzio del Serafino e aggiunse il fatto dell'impressione delle stimmate alla sua testimonianza di importanza cruciale la rubrica sulla cartola autografa di Francesco solo più tardi negli anni 1250. qui ho riprodotto i due testi quello della lettera enciclica di frate Elia e della rubrica di frate Leone che non leggerò non entrerò nel merito delle polemiche che hanno chiarito la questione nei ultimi decenni solo ho riprodotto queste due affermazioni principali. dopo la pubblicazione del libro di Frugoni una serie di studi approfonditi ha avviato una nuova discussione su vari aspetti dell'iconografia della stigmatizzazione di San Francesco. Roberto Rusconi il cui tema importante era l'iconografia dei predicatori medievali ha dedicato alla rappresentazione di San Francesco diversi saggi che sono ora ristampati nella sua recente raccolta di studi francescani. L'americano Arnold Davidson ha scritto una affascinante controreplica al libro di Frugoni dal titolo Miracoli di trasformazione corporea come San Francesco ricevette le stimmate. Elvio Lunghi ha dedicato analisi precise alle singole rappresentazioni delle stimmate nell'Italia centrale e lo storico dell'arte olandese Henk Van Oss ha scritto un'analisi innovativa su come San Francesco sia potuto diventare con gli strumenti artistici un secondo Cristo. Nella mia panoramica mi sono basato su queste osservazioni. Prossimo. Nei primi anni 2000 sono stati pubblicati diversi nuovi studi sintetici in questo campo. La monografia di Rosalind B. Brook storica medievale britannica intitolata The Image of St. Francis Responses to Sainthood in the 13th Century è un buon esempio di come gli storici nella spiritualità tardo-medievale come me anche siano diventati sensibili all'importanza delle immagini nel senso più ampio del termine includendo non solo le rappresentazioni artistiche ma anche le immagini mentali e le discussioni pubbliche su di esse. La storica dell'arte americana prossimo la storica dell'arte americano indiana Paloma Chatterjee offre un confronto affascinante nel suo libro The Living Icon in Byzantium and Italy The Vita Image 11th to 13th Century l'immagine della vita nei secoli undicesimo e tredicesimo tra il modo in cui la rappresentazione di Francesco e delle sue stimmate diventa iconica e i territori originali delle icone le immagini del cristianesimo ortodosso. L'eccellente esperta di Giotto Serena Romano non ha bisogno di presentazioni e le sue intuizioni nell'interpretazione dei dipinti di Giotto sono essenziali. due libri più recenti devono ancora essere aggiunti a questa enumerazione il libro di Adelaida Ricci Apparuit FGS dentro il racconto delle stigmate Apparuit FGS se ricordate è un termine di buonaventura e questo è al centro di questo libro combina ancora una volta un'analisi molto attenta del vocabolario delle immagini verbali delle metafore e dei significati teologici nelle leggende di San Bonaventura e delle altre prime testimonianze con un esame dettagliato di come parole e raffigurazioni siano state interconnesse e abbiano prodotto nella rappresentazione artistica delle stigmate un racconto plurale Cordelia War storica dell'arte britannica ha pubblicato due anni fa il suo Stigmatico e visual culture in late medieval and early modern Italy di Stigmatico e la cultura visuale nell'Italia al tardo medievale nella parte del suo libro dedicate alle stimmate di San Francesco l'autrice affronta un tema finora poco esaminato come le immagini che rappresentano le stimmate di Francesco sono state accolte con ammirazione o critiche dai contemporanei analizza questi miracoli storie racconti miracolosi della geografia cioè due storie di Tommaso da Cellano del trattato dei suoi miracoli e una storia dell'actus di di Santi Franceschi in l'actus è descritto un frate dominicano che cerca di cerca di far sparire le stimmate di un dipinto di San Francesco che cominciano a sanguinare e questa storia prova miracolosamente la veridicità delle stimmate di Francesco prossimo passiamo ora alle immagini stesse la prima rappresentazione delle stimmate di San Francesco fu una tavola da dare a San Miniato a Monte essa rappresenta bene la tipologia di cui seguirà una serie un'icona biografica in stile bizantino con la grande figura del santo in piedi al centro circondata da scene narrative di piccole dimensioni della sua vita Francesco ha le stimmate visibili sulle mani e sui piedi ed è circondato da sei scene le due in alto sono la stigmatizzazione sulla verna e la predicazione ai uccelli il dipinto non è sopravvissuto potrebbe essere contemporaneo alla canonizzazione di Francesco del 1228 come afferma il suo disegno copia seicentesca è attribuito con qualche incertezza a Buonaventura Berlinghieri una rappresentazione molto precoce della stigmatizzazione risalente all'incirca all'anno 1230 si trova su due reliquiari smaltati di Limoges uno all'Uvres e l'altro al Musee de Cluny a differenza della maggior parte delle rappresentazioni successive l'ambiente fisico della stigmatizzazione non è il pendio della montagna ma solo tra due alberi il Francesco in piedi solleva le mani in un gesto di preghiera non guarda il serafino sopra la sua testa che è separato da lui da una linea rossa un'altra realtà irraggiungibile da lui per lui a cinque stimate indicate da punti rossi e anche la ferita al fianco è ben visibile prossimo la prima tavola d'altare sopravvissuta proviene da Pescia firmata da Bonaventura Berlinghieri è datata da 1235 la figura frontale di Francesco è scalza indossa un saio con capuccio e cordone annodato e mostra le stimate sulle mani e sui piedi ma la ferita al fianco non è visibile tra le sei scene sul fianco spicca la stigmatizzazione che ha grandito questa stigmatizzazione è la più antica rappresentazione pittorica di questa Francesco è inginocchiato in posizione di preghiera con le braccia aperte assomiglia molto a Cristo nell'orto di Gezzemani sul monte dei Ulivi il Serafino è in alto l'uomo stigmatizzato all'interno del Serafino non è fissato a una croce come descritto da Tommaso da Celano tra gli altri miracoli della tavola sotto la stigmatizzazione troviamo ancora una volta la predicazione agli uccelli prossimo come le descrizioni divergenti nelle storie ampiamente circolanti accanto alla prima leggenda ufficiale sulla stigmatizzazione di Tommaso da Celano anche le rappresentazioni visive mostrano una varietà i primi frati inglesi la cui storia è descritta da Tommaso da Eccleston conservano una versione diversa dell'apparizione del Serafino alla Verna una versione del resto che richiama una una comunicazione con frate Leone e una cronaca di Ruggero di Vandover in Inghilterra riporta un resoconto della stigmatizzazione molto diverso da quello di Tommaso da Celano dove non parla dalla visione del Serafino parla di questa stigmatizzazione avvenuta solo alcune settimane prima della morte di San Francesco ma anche parla di Francesco mostrando le stigmate facendo una una predicazione con queste stigmate che poi erano guarite allora questa storia è tutta male informata il successore di questo cronista inglese Matteo Paris monaco di Sant'Albans ha incorporato questa cronica alla cronica ma lui aveva già la conoscenza della leggenda di Tommaso di Celano comunque questo disegno che lui ha fatto personalmente nella cronaca al margine mostra un'altra storia Matteo di Parigi segue una convenzione quella di sogno visione allora vediamo Francesco dormendo sognando e vedendo il Serafino nel sogno il prossimo due raffigurazioni francesi della stigmatizzazione della seconda metà del duecento due libri d'ore collocano la scena della visione invece nell'eremo in un santuario dove il Serafino appare in piedi sull'altare o fluttuante sopra di esso prossimo anche la vetrata tedesca di Erfurt colloca la scena dell'apparizione accanto a un altare una leggendaria domenicana fa stare l'uomo Serafino su una ruota mutuata dalle descrizioni delle apparizioni bibliche prossimo tornando alle pale d'altare centro-italiane di stile bizantino altri due esempi sono quelli di Pisa forse di un pittore toscano vicino a giunta Pisano e quello di Pistoia si può osservare che quella di Pisa non include la stigmatizzazione tra i miracoli rappresentati mentre quella di Pistoia sì abbiamo al grandito a destra quest'ultima secondo la proposta di un storico d'arte d'origine ungherese Miklos Boskovic è probabilmente opera di Coppo di Marcovado così come il dipinto più noto di questo genere la tavola d'altare di Bardi prossimo questa tavola è un sviluppo del precedente schema con più scene narrative intorno alla figura stante di San Francesco in tutto 20 dove si uniscono ci sono piccoli busti di frati potete vederlo questa scena aggrandita allora questi frati che rileggono questi episodi narrativi mostrano già alla metà del 200 la grandezza dell'ordine francescano potrebbe essere stato commissionato per la nuova chiesa dei francescani a Firenze c'era una prima chiesa dedicata a Santa Croce e una nuova chiesa iniziata anche dedicata a Santa Croce nel 1252 le dimensioni e il numero di scene potrebbero esprimere una rivalità con le pale d'altare di Pisa e Pistoia il nostro interesse è la scena della stigmatizzazione dove si nota un'interessante innovazione tre raggi dorati scorrono verso Francesco Orante secondo Chiara Frugoni questa rappresentazione allude all'idea dei zelanti intorno a frate Leone ed altri compagni di Francesco che insistevano sul fatto che l'elemento principale dell'apparizione del Serafino fosse la rivelazione che gli trasmetteva a Francesco visio et allocuzio anche questa descrizione si potrebbe leggere nella compilazione di Assisi che probabilmente sono piccole storie anche messi insieme da frate Leone questa stessa prossima questa stessa caratteristica si ritrova nel dipinto conservato alla galleria degli uffizi appunto di questo periodo della metà del 200 un altro interessante nuovo tipo di rappresentazione di Francesco era una figura in piedi senza scene narrative accanto lì Francesco divenne protagonista dell'immagine e c'è una serie di dipinti di questo tipo firmati da un pittore margaritone d'Arezzo negli anni 1250-60 anche il centro della scena della stigmatizzazione la cappella nell'eremo della Verna diventa un luogo di pellegrinaggio e nella cappella delle stimmate c'è una scultura in pietra che rappresenta l'apparizione del Serafino curiosamente senza il segno delle stimmate ma solo una comunicazione infatti questo luogo di pellegrinaggio diventa un luogo dove alcuni pellegrini volevano avere le informazioni sulle rivelazioni date dal Serafino a Francesco c'era un frate terziaria francescana negli anni 1280 che aveva una visione di Francesco chiedendolo su queste rivelazioni e queste sono descritte nell'instrumentum de stigmatibus sancti francesi un documento che più tardi viene rielaborato nei fioretti di San Francesco prossimo nei anni 1230 40 c'erano varie critiche anche delle stigmate alcuni dubbi contro quali il papa Gregorio IX ha fatto uscire alcune bolle 1237 e poi Alessandro IV 1255 un'altra bolla con il titolo benignum operatio dove ha di nuovo fatto una difesa del miracolo delle stigmate e soprattutto ha sottolineato l'importanza della ferita sul fianco la ferita sul fianco che ha veramente mostrato che Francesco era simile al redentore e dopo questa bolla c'è una nuova ondata delle rappresentazioni di Francesco ora con la ferita sul fianco molto più visibile che prima allora prima rappresentazione di questo tipo era quella di maestro di San Francesco a Porziuncola Santa Maria degli Angeli verso 1260 e anche questo tipo di rappresentazione rappresentata per esempio da Cimabue forse il dipinto il più conosciuto su San Francesco dove San Francesco accanto una rappresentazione della maestà ma si vede la ferita del costato molto bene il prossimo anche la bolla di Alessandro IV ha dato il segno che ad Assisi una rappresentazione della vita di San Francesco è stato cominciato allora nella Basilica Inferiore tra 1257 e 59 il maestro di San Francesco ha fatto una serie di affreschi e molto tipicamente le scene relative a Francesco si affrontano quella della passione di Cristo nella Basilica Inferiore e purtroppo appunto la stigmatizzazione non è rimasta interamente si vede solo il Serafino si vede molto bene per esempio la predica ai uccelli ma il Serafino accanto al Serafino Francesco stesso non si vede il prossimo ma la grande impresa della decorazione della Basilica di Assisi e anche la più importante rappresentazione della vita di San Francesco era quella di Giotto alla fine del 200 e qui parlo solo di questo dipinto sulle stigmate allora questo dipinto era una vera innovazione nella iconografia della scena di stigmatizzazione sulla verna una innovazione Chiara Frugoni ha dedicato molte pagine all'analisi di questa scena che innovazione che le stigmate vengono con i raggi qui su questo dipinto non si vede tanto bene ma si vedrà sui prossimi allora i raggi che vengono delle piaghe di Cristo perché Giotto segue già la leggenda maio di Bonaventura dove il Serafino e l'uomo crocifisso all'interno del Serafino è esplicitamente identificato al Cristo la faccia di Cristo è riconosciuto da Francesco come scrive Bonaventura e allora un rapporto tra le ferite divine e umane attraverso i sottili raggi che vengono e allora che rileggono i piedi e le mani e il petto di Cristo poi i raggi i raggi vengono a colpire simmetricamente il corpo di Francesco e trasformano una specie di copia una specie di specolare copia specolare Francesco Francesco non è solo e questo è anche importante per Bonaventura era importante di raccogliere le prove della stigmatizzazione un intero capitolo il capitolo tredicesimo della leggenda era sulla stigmatizzazione e allora qui si vede un frate seduto per terra probabilmente frate leone ma non è nominato qui non è nominato nella leggenda non vede quello che accade perché non guarda direttamente il miracolo ha un libro nel mano immerso nella lettura il libro e la lettura del libro probabilmente la Bibbia vuole mostrare anche il rapporto di Francesco con questa storia che è descritta anche nelle leggende che prima di questo miracolo c'era un'apertura della Bibbia tre volte e tre volte era la storia della passione di Cristo poi ci sono anche edifici edifici che farò una specie di addomesticazione di questo miracolo questo miracolo è in un in un luogo molto selvaggio ma con questi edifici diventa addomesticato e sacralizzato anche bisogna guardare che il Serafino è molto misterioso non si vede molto bene è una visione un'apparizione apparizione che deve essere decifrato Francesco invece un uomo realisticamente rappresentato osservando pregando vedendo quello che accade a destra è una scena la verifica delle stigmate e anche importante nella serie di questi affreschi ma anche nella leggenda allora ha la stessa funzione che la presenza del frate presso la stigmatizzazione i testimoni che hanno hanno visto toccato toccato o dato una testimonianza scritta anche della delle stigmate questo era un importante argomento dei francescani per contro quelli che hanno avuto dubbi nella vericità delle stigmate il prossimo dopo aver finito questi affreschi ad assisi c'era c'era Giotto ha continuato di lavorare e il secondo la seconda versione la palla della stigmatizzazione ha fatto per Pisa verso 1300 allora questa seconda rappresentazione è forse la più conosciuta e si vede una grande differenza alla prima rappresentazione ad assisi qui Francesco diventa la figura dominante infatti si può chiedersi se è Cristo che stigmatizza Francesco oppure Francesco che vede Cristo che questo amore questo ardore di amore di Francesco vede vede questa apparizione e crea allora è molto ambigua in questo senso e vorrei osservare anche che frate non ha più posto qui non era importante era solo un dialogo tra Francesco e Cristo su questa scena e poi ci sono tre piccole scene emblematiche accanto il crollo il sogno di Papa Innocenzo III sul crollo della Basilica del Laterano cadente poi l'approvazione della regola di Francesco e ancora la predica ai uccelli lo storico d'arte britannica Julian Gardner ha scritto un bel libro su Giotto e Francescani dove ha analizzato questi dipinti anche esiste in traduzione italiana prossima vorrei avere un commento del fatto che dappertutto come potete osservare accanto alla stigmatizzazione c'era la predica agli uccelli non solo questa predica agli uccelli è molto importante per vedere il rapporto di San Francesco con la natura e la sua visione tutto nuova di sentimento con il mondo creato ma era anche significativo per la visione con il Serafino la compilazione di Assisi descrive l'apparizione del Serafino vicino a un segno il segno non era lì in questa descrizione originata probabilmente di frate leone non si parla delle stigmate in questa versione della leggenda ma gli uccelli che hanno parlato a Francesco gli uccelli erano rappresentanti un po' un messaggio divino e per questo è possibile che questo copiamento di predica agli uccelli Serafino era sempre tornando nel XIII secolo prossimo c'era un'altra innovazione interessante proposta nell'analisi di Chiara Frugoni ma anche Hans Belting che il terzo affresco sulla stigmatizzazione nella cappella Bardi all'esterno in Santa Croce c'era un'osservazione interessante della maniera come i raggi vengono allora i raggi che all'inizio nei primi due dipinti di Giotto sono venuti simmetricamente che vuol dire che dalla mano sinistra alla mano destra è andato a Francesco in mano destra a mano sinistra e con i piedi similmente cioè Francesco è divenuto rispecchiato Cristo è divenuto una coppia di specchio qui invece cioè nella cappella Bardi come osservò Chiara Frugoni i raggi sono andati da destra a destra a sinistra a sinistra che voleva dire che Francesco non era uno specchio di Cristo ma era identico e questo era un'affermazione molto più forte molto più qui a destra si vede si vede anche come un disegno schematico mostrando questa osservazione e il prossimo allora il fatto interessante era che come sapete a Firenze ci sono stati restauri di questi dipinti e la fresco Bardi dopo i restauri si mostrava che l'osservazione di Chiara Frugoni non vale per questo dipinto perché i restauri hanno mostrato che questi raggi andando da destra a destra sono stati aggiunti più tardi e originalmente Giotto è rimasto con lo schema specolare allora questa è una scoperta molto interessante e qui si vede allora lo stesso sistema la stessa simmetricità che sui dipinti di Pisa o sui dipinti di Assisi il prossimo ma questa innovazione è è occorso più tardi allora un allievo di Giotto per esempio Taddeo Gaddi che ha fatto una replica di Giotto replica del dipinto di Pisa che ora a Fogart Museum nei Stati Uniti potete osservare lì ha dipinto questi raggi rossi perché dopo Giotto stigmatizzazione va sempre con i raggi questi raggi vengono già secondo il nuovo sistema allora se non Giotto allora i suoi allievi o i suoi contemporanei hanno comunque fatto questa innovazione qui Taddeo Gaddi ha cambiato i raggi e lì si vede dalla mano destra di Cristo a mano destra di Francesco e mano sinistra a mano sinistra il prossimo questa innovazione si può vedere anche sul dipinto di Pietro Lorenzetti nella basilica inferiore di Assisi lì se potete osservare anche si può vedere destra destra sinistra sinistra oppure maestro delle tempere francescane Pietro Orimina probabilmente anche lì questi raggi rossi vengono così il prossimo ora sto arrivando per la fine allora e questa è una piccola parte solo di tutti i dipinti su San Francesco allora nel tredicesimo secolo all'inizio del 300 una serie di nuove leggende sono fatte speculum perfeccionis actus beati francisi e sopra una tradizione involgare di fioretti con una dettagliata considerazione sulle stigmate che hanno arricchito la descrizione di questa storia e per la figura di Francesco alla fine del 300 Bartolomeo da Pisa ha scritto un grosso libro sulla conformità della vita di San Francesco alla vita del Signore Gesù prossimo allora queste descrizioni hanno fatto cambiare anche le rappresentazioni allora per esempio una parte della scena della stigmatizzazione secondo le descrizioni dell'actus era legato ai fenomeni di luce allora questa luminosità dell'apparizione del Serafino dove anche i territori vicini hanno pensato che già giorno cominciato allora i pastori hanno preso i greggi fuori e allora questa luce per esempio si vede sul dipinto di Beato Angelico prossimo e molto importante era alla fine del 300 questa idea che Francesco è veramente un altro Cristo il termine alter Christus viene prima nell'actus beati Francisci più tardi allora questa è l'idea centrale e storico olandese Henk Vanoss mostra che sui dipinti si vede veramente Francesco nella posizione di Cristo qui San Francesco è con Santi il prossimo e qui nel 400 per esempio nel dipinto di Sassetta allora veramente Francesco è mostrato come un altro Cristo e possiamo chiudere anche il tempo è andato in avanti allora vorrei solo mostrare la direzione dell'evoluzione di questa iconografia posso avere il prossimo allora quello che mostra un'evoluzione interessante nel 500 che il Serafino non si vede più allora sul dipinto di Benozzo Gossoli Serafino è una realtà spirituale che non è rappresentato allora sulla stigmatizzazione la presenza di Frate Leone lì ambe due vedono il Serafino ma noi non lo vediamo posso avere il prossimo e l'ultimo allora Giovanni Bellini ha un dipinto sulla stigmatizzazione che è forse più interessante perché non 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 c'è più il Serafino si vede la luce sulle rocce si vede si vede qualcosa che era nell'aria e Francesco è lì non si vede le stigmate ma si vede che qualcosa si succede dentro una stigmatizzazione è un sentimento che cambierà dunque è un dipinto analizzato molto bene da Arnold Davidson e altri storici d'arte che veramente vede il momento del stupore di Francesco vedendo la visione allora vorrei chiudere questo breve panoramica sulle rappresentazioni delle stigmate che continuerà naturalmente nel 600 700 ma questo sarebbe già troppo lungo per oggi grazie per l'attenzione grazie a lei professore grazie soprattutto per averci fornito questa visione europea del mito di Francesco e delle stimate perché noi conosciamo bene o abbastanza bene quella italiana ma lo parte la toscana e l'umbra ma non quella inglese o francese o tedesca io lascerei il microfono ai nostri intervenuti perché immagino qualche domanda ci sarà visto il tema è stato affrontato o immagino male c'è nessuno no li ha stesi tutti professore li ha ampiamente soddisfatti perché ho visto delle intervenuti che prendevano appunti quindi immagino nessuna domanda perché io libero il professore immagino che debba andare anche lei a mangiare qualcosa fra poco i nostri orari sono abbastanza da voi fa anche freddo da noi oppure è caldo ma qui si fa freddo fa freddo due gradi due gradi ecco allora fa più freddo è da noi Firenze fa abbastanza freddo allora se non ci sono veramente domande io direi di salutare il professore e liberarlo grazie ancora professore grazie davvero grazie